L'arma forestale nel periodo a massima pericolosità incendi che va da giugno a settembre intensifica i servizi di controllo del territorio in particolare in quelle zone che sono state già un teatro di incendi negli anni precedenti nell'ambito di questi controlli nel comune di Cantalicio in provincia di Rieti è stato arrestato in fragranza di reato un soggetto già noto per precedenti reati nel materia di incendi boschivi e intento ad appiccare un fuoco con un accendino ai margini di una strada.